Sì, siamo veramente arrivati a un nuovo inizio, una nuova partenza, tanti bambini marchigiani, ragazzi che si metteranno, alcuni nelle scuole nuove, altri nella scuola che c'è da sempre. La scuola è un momento importantissimo di crescita personale e di crescita dell'intera comunità marchigiana, per questo tutti quanti ci crediamo, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il loro successo scolastico, perché possano trovare amici nuovi se vanno in una classe nuova, ritrovare gli amici di sempre se vanno alla scuola in cui si sono sempre trovati, in quel bellissimo ambiente che è fatto di insegnanti, di persone tecnico, di ragazzi, di genitori che tutti insieme fanno la scuola marchigiana.